Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di Sette in Punto. Questa mattina ci occupiamo di moda e lo facciamo con un ospite che ne sa veramente di questo settore perché è Gianpietro Muraro, direttore dell'Asolo Fashion Lab. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Allora Gianpietro Muraro ha un'esperienza molto lunga nel settore della moda con collaborazioni con grandissime case di moda italiane e straniere tra cui per esempio dalle origini diciamo così Versace, una delle icone italiane più amate in tutto il mondo, poi Coveri e poi dal Giappone a Mamoto insomma fino alle collezioni di Cervino Street che insomma tutti i marchi assolutamente di grandissimo livello per cui ha lavorato nel corso della sua vita. Ma ve lo presento un po' così in linea generale così poi andiamo insieme a conoscere anche che cosa sta facendo qui in Italia. Ha avuto anche una grandissima esperienza in Cina dove ha operato per molti anni proprio nella formazione del tessuto imprenditoriale cinese della moda che come sappiamo ha avuto una grandissima evoluzione e ora si sta affacciando proprio con delle proprie case di moda. Adesso ha deciso di tornare in Italia e la trasmissione inizia proprio da qui, da perché lei ha deciso di tornare in Italia dopo tutto questo e di venire ad Asolo nel cuore del nord est. Ma sono tornato ad Asolo in Italia prima di tutto perché sono veneto, sono nato a Venezia e quindi praticamente tengo il mio paese. Il richiamo della madre terza. Esatto, esatto. E poi soprattutto perché abbiamo un pool di, diciamo c'è un comprensorio di aziende qui in Veneto molto importante e molto interessante che ha bisogno praticamente di far crescere, quindi c'è bisogno di crescere gioventù perché queste aziende hanno bisogno di personale che venga a lavorare. Certamente, ma io credo sia stato un po' a vedere anche il settore della moda italiana che ha guidato un po' tutto il mondo sostanzialmente. In questo momento non sta vivendo una fase proprio così molto bella perché molti marchi appunto sono stati acquisiti dall'estero. In questo momento lei sente di dover fare qualcosa anche per l'Italia, per i ragazzi e per il futuro di questo settore in Italia? Soprattutto per quello perché ormai è arrivata una certa età, dico bisogna aiutare i giovani a crescere e quindi tutto quello che io ho avuto la fortuna di imparare tramite questi grandi brand e questi personaggi molto importanti, lo vorrei così trasferire a questi giovani perché possono avere un futuro anche loro. Ecco, questa è una cosa molto bella che si è trasformata in breve appunto grazie a un tessuto imprenditoriale e artigiano e di case di moda, comunque come la nord-est sappiamo ce ne sono moltissime, si è trasformata in un'esperienza molto bella che è questo Asolo Fashion Lab. Asolo Fashion Lab, sostanzialmente è propriamente una scuola di moda e di alta moda ma anche di professioni collegate alla moda. Esatto, perché praticamente non è che la moda offre solo lavoro ai creativi o alle sarte che fanno campionari, ma bensì c'è un segmento molto ampio all'interno del settore moda che ognuno di un giovane praticamente può trovare il suo habitat giusto e la sua dimensione all'interno di un'azienda. Allora, te lo spieghi lei che cos'è questo Asolo Fashion Lab? Asolo Fashion Lab praticamente sono percorsi che noi facciamo, sono dei master abbastanza intensi e prepariamo praticamente dei product manager che è la figura che in sostanza l'azienda chiede di più in questo momento. Che si potrebbe tradurre come? Si potrebbe tradurre come la figura trasversale dell'azienda che quindi parte dallo stile attraverso il tessuto, attraverso diciamo non so il marketing e anche attraverso la sfilata a tutto quello che è l'opulenza di quello che è la moda, quindi la dimostrazione e tutte queste cose qua. Pertanto facciamo dei percorsi completi di modo che la persona sia preparata in tutto il settore. Poi c'è chi invece sceglie di fare il modellista, allora quello praticamente è un po' l'architetto della moda e quindi è quello che prepara tutta la parte modellistica, anche questa molto importante. e quindi stiamo preparando queste figure così. Poi facciamo altri corsi che sono dedicati ai vetrinisti, quindi a tutti quelli che vogliono imparare altri mestieri. E quindi abbiamo un parterre abbastanza ampio e poi abbiamo la parte dedicata all'immagine, alla bellezza, al portamento, a tutte queste cose qua e quindi lavoriamo con i parrucchieri, quindi il make up e quindi tutte queste cose qua e soprattutto ecco abbiamo anche un percorso con fotografi e quindi prepariamo le persone ad organizzare questi eventi importanti che ci sono in tutta Italia. Bellissimo, è molto bello ma quello che a me è anche interessato è che esiste la scuola, esiste il master ma esiste anche un percorso parallelo rivolto non solo ai ragazzi ma anche alle aziende perché il tessuto imprenditoriale ha bisogno un po' di una sveglia, di essere un po' messo al passo con i tempi anche in questo settore. Esatto e quindi noi analizziamo anche il prodotto dell'azienda e vediamo di aiutare l'azienda a crescere attraverso l'internazionalità e quindi portargli a capire quali sono i prodotti più adatti per vari mercati esteri anche perché ormai i mercati che contano di più in questo momento sono la Cina, il Giappone, la Russia e gli Emirati Arabi. Con tutto quello che circola nel mondo abbiamo ancora qualcosa da proporre? Sì, abbiamo molto da proporre. Questo mi piace, questo sì deciso. Sì, abbiamo molto da proporre anche perché noi siamo nati, la nostra inventiva fa parte di noi italiani e quindi dobbiamo svilupparla e i nostri giovani hanno molta voglia, io vedo quelle che maggior parte donne che frequentano questi corsi, ragazze, che si appassionano dopo la terza, quarta lezione proprio le vedi che entrano in sintonia con il percorso e diventano brave, ecco, sono bravissime veramente. Di cosa c'è bisogno di più? Cosa manca, diciamo così? Quali sono gli stimoli su cui bisognerebbe lavorare nelle aziende e anche dal punto di vista dei ragazzi? Perché anche i ragazzi hanno bisogno di essere stimolati e di vedere delle prospettive, magari anche nazionali. Ma i ragazzi prima di tutto hanno bisogno che noi crediamo in loro e questa è la base di tutto. Se noi crediamo in loro e li aiutiamo a crescere, praticamente loro sono pronti a crescere. Se noi li sviliamo un po' oppure li abbandoniamo un attimino a se stessi, non funziona, ecco. C'è bisogno di aiutarli, aiutarli a crescere e soprattutto poi anche dargli un futuro. Infatti noi con i nostri percorsi dopo piazziamo nelle aziende, ecco perché lavoriamo con le aziende. Perché l'azienda praticamente ci dà la possibilità di inserire le nostre ragazze all'interno per fare un percorso di stage prima e poi addirittura. Eventualmente di assunzione. Però diciamo che mi raccontava Gian Pietro Muraro che c'è anche fame di professionalità. Molto. E di professionalità italiana e per cui questi ragazzi escono con una professione in mano ma anche con un lavoro spesso che si presenta quasi istantaneamente. Ma noi non capiamo quanto siamo apprezzati all'estero. Rimanendo qui praticamente non capiamo il valore che abbiamo all'estero. Io ripeto con dieci anni di Cina mi sono reso conto che balliamo molto proprio ma ci apprezzano molto veramente per quello che sappiamo, per la nostra capacità di inventiva, per il nostro savoir-faire anche perché abbiamo anche questo noi. però dobbiamo svilupparlo in questi giovani perché se noi li lasciamo così un po' abbandonati a se stessi oppure li facciamo studiare e poi non hanno qualcosa a cui potersi dedicare anche loro si abbandonano un po' a se stessi. Quindi portare il nostro prodotto all'estero, portare i nostri ragazzi all'estero magari tenendo i cervelli qua che insomma cominciamo a soffrire un pochino l'assenza di questi ragazzi che migrano un po' troppo facilmente dai nostri territori. E quindi come mai ad Asolo? Perché è una scuola che è nata non da moltissimo tempo. No, sono due anni che è nata. Sono due anni esatto e come mai siete approdati ad Asolo? Sono approdato ad Asolo perché ho trovato praticamente da parte di Asolo Fashion Lab diciamo Asolo, proprio il confartigianato Asolo che mi ha ospitato in questi locali e mi stanno aiutando molto nella crescita anche perché anche loro credono in questa innovazione credono nell'aiuto delle aziende e credono diciamo nel futuro della zona proprio perché lì aziende ce ne sono tante. Quindi è un caso di scuola diciamo così di una rete che sta funzionando abbastanza bene sta iniziando a funzionare. E troppo dire sta funzionando. No, assolutamente, però avete già un bel numero di ragazzi anche se diciamo che questa non è una scuola con centinaia di allievi è una scuola molto selettiva. Massimo ne voglio dieci. Dieci allievi, quindi diciamo i corsi sono abbastanza lunghi perché comunque sono circa sei mesi di corso quindi... Sei mesi intensi. Sei mesi intensi, sei mesi formativi e sei mesi però appunto che molto facilmente poi possono dare un'effettiva prospettiva a questi giovani. Chi si è presentato, con che tipo di esperienze precedenti o personali? Un po' di tutto perché nel corso passato praticamente c'era un avvocato una che ha fatto avvocatura, c'era diciamo varie persone ma tutte laureate addirittura una maestra, una professoressa diciamo di scuola media che è così, lei ha sempre avuto questa passione per la moda e quindi si è innamorata del settore. E ha cambiato un po' vita diciamo. E vuole cambiare vita perché adesso di fatti era incinta durante il percorso adesso ha partorito e riprenderà il suo iter diciamo con la moda. E anche penso che molte persone che hanno comunque operato in questo settore si sono ritrovate penso al settore della calzatura, abbiamo dei professionisti di altissimo livello che magari però c'è un po' inceppato questo settore qui e dovrebbero essere riconvertiti, no? Sì, più che altro c'è bisogno di smuovere un attimino tutte le situazioni. Ecco, però si sa non è facile dare il giro a questa ruota diciamo che è molto lenta, però io ci sto provando. Ecco, allora vogliamo concentrarci anche proprio su questo per capire come sta cambiando questo settore della moda perché sappiamo che il mondo si sta rivoluzionando ad ogni livello e la moda non è certamente esente da questa rivoluzione. No, è la prima, è la prima che si muove. È la prima che si muove e cosa sta succedendo? Cosa succede? Già nella progettazione e poi anche nell'utilizzo dei tessuti, dei materiali? Ci racconti un po' cosa sta cambiando? Ma noi nel nostro percorso stiamo lavorando molto sulla sostenibilità e questa è una cosa molto importante e basilare diciamo su tutto il percorso che noi stiamo facendo. Io poi come docenti ho tutti i professionisti molto molto rodati diciamo se così possiamo dire, che lavorano attualmente con le aziende non so se posso nominarli oppure è un bel pool di professionisti tra cui ho Sergio Amadio che è un ottimo modellista diciamo che ha sempre lavorato anche lui per grandi brand poi ho Paola Abiti, non a caso il nome si associa alla moda si associa alla professione e lei fa il marketing praticamente di professione e pertanto è un'altra grande diciamo professionista poi c'è praticamente quello che mi fa il percorso del tessuto che si chiama praticamente è un professionista di Prato che viene su appositamente per parlare proprio di tessuti adesso poi che si parla molto di sostenibilità ci sta facendo dei campioni con del reciclato della lana reciclata con dentro diciamo con i tappi di plastica fanno le legature di queste trame, di queste cose qui ed è interessantissimo anche questo Ma vengono dei tessuti belli? Bellissimi Bellissimi? E vengono fuori delle novità ecco e poi ho una docente che mi fa il colore che è Marina Denti praticamente è una psicologa e pittrice fa dei quadri stupendi e poi ho una che fa diciamo storia dell'arte una bravissima docente anche questa viene dall'Accademia e anche lei praticamente E tutto questo insomma si instaura in un percorso tutto avvocato comunque all'innovazione Esatto e poi abbiamo una maestra di confezione anche lei che fa il suo percorso quindi praticamente toccano tutti i settori e tutti i segmenti che possono toccare all'interno di un'azienda Diciamo che ormai appunto sia sul marketing, l'e-commerce il mercato internazionale sembrano più accessibili più facili anche da affrontare per le imprese L'importante è avere il prodotto giusto perché tutto dipende dal prodotto E dalla capacità di produrlo anche perché poi bisogna sostenere la produzione cambiando il mercato Sì ma la capacità di produzione in Veneto non manca perché lavorano anche 24 ore al giorno pur di consegnare C'è molta preparazione su questo L'importante è appunto dare il prodotto giusto al mercato che ti richiede perché in questo momento purtroppo quello che conta è questo E c'è bisogno di innovare da questo punto di vista molto Infatti abbiamo visto anche a Milano in questi giorni quello che ha presentato ossia si sta ritornando al bello quindi questo è molto importante è un buon segnale Al bello e appunto all'innovazione ma anche nei tessuti anche al prezioso anche alle cose più ricercate quindi Si sta ritornando a parlare di Kashmir cosa che era quasi sparito dalla circolazione però ecco non è più l'abbignamento il bello di qualche anno fa di anni addietro ma pensi è un bello rivisto corretto, rinnovato perché non so una si compra la bella giacca di Kashmir però poi magari abbina un gonellone che compra da Zara per dire così a pochi soldi perché vuol dare quell'innovazione al capo che indossa quindi non è più diciamo il capo firmato autentico tutto ad un pezzo esatto ecco magari non so mettere su però diciamo che anche dare un indirizzo perché diciamo che il mercato cinese lei lo conosce molto bene dicevamo dieci anni di esperienza in Cina non possiamo diciamo che siamo stati anche abbiamo vissuto in un periodo di iperproduzione e anche di iperdisponibilità a bassissimi costi di abbigliamento anche originale anche simpatico anche divertente togliendo le grandi case non possiamo competere su questo versante ovviamente dobbiamo andare a cercare la qualità dobbiamo andare a cercare altro ma la Cina comunque non ci appartiene più come ci apparteneva Ania dietro perché la Cina si è aggiornata con i costi e pertanto non ci conviene più andare in Cina sono rimasti quelli che avevano le aziende quindi quelli che hanno piantato radice lì allora quelli sono lì e rimangono lì però i nuovi quelli improvvisati che andavano su un periodo a fare alcune cose stanno ritornando anche i grossi stanno ritornando tutti indietro ci sono altre vie per quello perché abbiamo altre zone dove vanno a parare ancora però se vogliamo il bel prodotto tanti stanno ritornando in Italia beh questa è una notizia ottima quindi a maggior ragione serve che abbiano a disposizione serve la mano d'opera serve la mano d'opera altrimenti ci ritorniamo in cui magari le aziende cercano e non trovano sì difatti non trovano persone preparate perché oramai non esistendo più l'apprendistato ma bensì ci vuole una persona che sappia già fare qualcosa e quindi la devono impiegare subito non possono aspettare sei mesi un anno perché cresca hanno bisogno di averla immediatamente allora noi abbiamo anche non l'ho neanche comunicato alla regia glielo dico così a live diciamo così nelle cartelle della giornata di oggi delle immagini di una di una sfilata in Cina che possiamo anche vedere proprio per capire qual è anche lo stile e e e il modo anche di presentare gli eventi questo è un ingrediente che a parte Milano insomma anche questo anche di questo c'è c'è bisogno saper preparare un evento saper preparare una sfilata saper dare quell'emozione come vediamo proprio qui qui dove era per esempio qui ero a Shanghai a Shanghai e la sfilata è di la sfilata praticamente è dedicata all'Italia e quindi io ho rappresentato l'Italia e pertanto questa è una sfilata che io ho presentato intanto vediamo qualche abito e qualche e qualche lì gli eventi di moda sono molto seguiti molto moltissimo moltissimo io sapevo anche che appunto sono anche molto aiutati molto aiutati dal governo hanno molto appoggio hanno molto appoggio e questa è una sfilata quasi tutta black style l'ho voluta nera tutta nera solo alla fine ci sono i colori questi veli che ci fanno tornare un po' al passato ha un'idea di eleganza comunque no? sì ma perché lì la donna praticamente quando esce la sera si cambia proprio ma si cambia si trasforma completamente e quindi è molto apprezzato la particolarità l'originalità e poi se è made in Italy ancora di più questo è un po' il fatto che appunto anche io so che nel mercato straniero cercano cose fatte e prodotte in Italia cercano l'originalità e questo l'abbiamo tutti un po' perso ci siamo un po' giocati qualche mercato anche in questa maniera no? allora speriamo di ritornare a piazzarci su questo mercato una parte importante della formazione riguarda anche la progettazione di questi di questi splendidi questi splendidi abiti anche qui è cambiato un po' tutto si usa ovviamente il computer adesso voi cosa fate lì ad Asolo? ma noi ad Asolo praticamente insegniamo da zero quindi si parte anche perché per dire ho provenienze diverse per dire adesso ho anche un geometra che sta facendo scuola di moda quindi per dire ma si può cambiare così tanto vita? sì si può fare sì ma ma anche con con quella voglia proprio di di riuscire a farlo veramente proprio vedi della volontà veramente che non credevo poi diciamo che sto trovando che le donne sono veramente agguerrite quando si mettono noi donne sappiamo sappiamo combattere abbastanza bene molto bene e poi è vero che diciamo è un po' il momento delle donne anche di un cambio generazionale probabilmente questa voglia si sente anche in ogni settore si sente e si vede proprio si sente e si vede questa voglia di arrivare però penso che anche che non sia un settore prettamente femminile cioè in realtà nella vostra scuola è capitato che sono tutte ragazze però credo che ci sia molto spazio un maschio all'interno circondato dalle donne esatto insomma si troverà bene sì beh senz'altro anche perché è beato tra le donne quindi si trova bene senz'altro poi la donna ha quel quel modo di fare che coccola un po' diciamo ecco e quindi l'uomo si sente anche quasi protetto insomma ma queste ore sono persone già sono giovani giovani non molto giovani perché sono tutti diciamo verso dai 25 ai 30 30 32 loro comunque devono fare il percorso con coletto fino ad arrivare alla sfilata sì devono preparare anche dei capi devono allora nel percorso praticamente che loro fanno io li obbligo alla fine di fare una piccola capsule che va da un minimo di 5 a un massimo di 10 capi che loro possono preparare e quindi loro se li studiano dall'inizio proprio li disegnano li creano naturalmente chi fa la modellistica se vuole perché non è portato per la creazione però deve fare i capi magari li copia o se li fa fare da una collega e poi lui li interpreta praticamente come modellistica quindi possono anche un po' lavorare in team se uno è più portato io voglio che lavorino in team assolutamente perché è molto importante dargli questa cognizione che devono lavorare in team perché il singolo individuo fa ma non fa abbastanza se non è diciamo coadjuvato dagli altri questo sono sempre io sono sempre stata di questo avviso e piano piano anche nel nostro veneto individualista sembra che questo messaggio stia stia passando speriamo che arrivi speriamo che arrivi sì senta volevo chiederle anche questo noi abbiamo esportato il nostro modo di fare un po' in tutto il mondo ma cosa possiamo invece imparare anche dal mercato cinese dall'esperienza della Cina c'è qualcosa che lei ha riportato qui in Italia come una cosa che dovremmo potremmo imparare da loro ma io personalmente imparo tutti i giorni e devo dire che l'esperienza fatta lì mi ha insegnato molte cose mi ha insegnato anche un metodo di vita che magari qui ce l'hai però quando non conosci il resto del mondo lo come si dice lo formalizzi lo formi a modo tuo lo plasmi un attimino mentre se tu ti allarghi a un altro paese praticamente devi essere anche molto disponibile e cercare di capire chi sono loro e perché sono così pertanto si impara moltissimo io perlomeno ho imparato molto poi io dai giovani veramente imparo tutti i giorni eh i ragazzi a volte io mi chiedo guarda questa cosa non l'avevo pensata pensata in questa maniera capito perché magari tu arrivi a una soluzione però non l'hai formulata in quella maniera lì come la pensa un giovane quindi questo è molto importante per me stare insieme ai giovani è determinante è sempre forte anche noi quando siamo i ragazzi anche nel nostro settore c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare poi loro sanno utilizzare ovviamente tutto quello che c'è di nuovo sul mercato sulla tecnologia e sanno modificare anche il nostro modo di pensare le cose come le abbiamo sempre fatte e questa è anche la grande bellezza di un confronto e forse il nostro paese soffre proprio per questo perché i giovani sono quasi tutti vanno quasi tutti via non sappiamo tenerli qui non sappiamo dare loro opportunità interessanti e anche economicamente interessanti forse per trattenerli di fatti io per parlare di giovani nel percorso di praticamente photoshop ho preso una mia ex allieva molto giovane che si è industriata con i cosplay praticamente lei disegna queste maschere queste cose ed è bravissima veramente al computer e quindi ho detto ragazzi quest'anno vi porto veramente una novità questa ragazza molto molto brava sono personaggi dei fumetti è una grande tendenza c'è anche un mercato perché anche questi vestiti sono abbastanza costosi e quindi sono molto elaborati nella preparazione quindi c'è un mercato ma poi ha quel modo di fare a computer che praticamente non è da tutti i giorni ecco non è il classico insegnare photoshop come colorare uno schizzo come fare ma bensì le sfumature che puoi dare le rotondità tutte queste cose qua e quindi quest'anno ho scelto questa ragazza molto giovane avrete anche un'altra sfilata alla fine del corso a giugno a giugno il 30 giugno faremo una sfilata ad asolo ad asolo e la faremo in esterno sperando che non piova va beh speriamo di no anche perché abbiamo una cornice molto bella lì veramente in esterno che è veramente favolosa quindi arredata nel modo giusto per una sfilata verrebbe veramente ecco quello che un po' manca è la parte perché io penso a nord-est ci siano senza pensare alla parte del Vicentino alla parte storica di Valentino Marzotto e dopo del Trevigiano ci sono un sacco di case di moda abbiamo veramente grandissime grandissime aziende che producono nel nostro territorio per la moda per l'alta moda e ci manca un po' la parte del fascino della sfilata della presentazione del far vedere che noi siamo un'area di alta moda Milano ci è riuscita molto bene qui in realtà non ci si può arrivare secondo lei ad avere un polo della moda comunque anche dal punto di vista dell'esibizione del fashion o no? ma non credo arrivare al pari di Milano perché Milano ormai è internazionale quindi è un porto dove tutti arrivano per dire e tutti vanno lì perché c'è la concentrazione qui un po' alla volta stiamo crescendo perché io vedo anche che i rappresentanti di tessuti fanno delle mostre anche in loco perché? perché esistono parecchie aziende quindi devono diciamo sono obbligati quasi a fare delle mostre e poi vedo che attraverso anche l'artigianato stiamo crescendo in tutti i sensi allora cosa si augura per i suoi ragazzi? intanto so che alcuni appunto hanno già trovato facilmente sì sì quelli del corso precedente sono tutti già collocati diciamo al lavoro alcuni di loro sono già stati assunti anche quindi questo per me è ragione d'orgoglio perché insomma hanno visto che qualcosa sapevano fare adesso per i miei ragazzi che cosa mi auguro? di continuare praticamente in questo percorso e di poter dare in futuro alle aziende quello di cui hanno bisogno quindi è destinato ad ampliarsi questo corso? sì è destinato ad ampliarsi anche perché abbiamo richiesta da altri comuni di portare lo stesso modulo praticamente quindi in provincia di Venezia e da altre parti diciamo che ci hanno chiesto e quindi ci amplieremo un po' alla volta però bisogna dare fare un passo alla volta non eccedere vedo che è una persona molto ponderata molto misurata anche in quello che dice quindi credo che le cose fatte bene appunto hanno bisogno di essere fatte un passo alla volta io ringrazio Gian Pietro Muraro per essere stato con noi questa mattina a cosa mai conosceremo più avanti alcuni di questi ragazzi e noi ci vediamo come sempre domani con un altro argomento grazie io ringrazio lei e buona giornata arrivederci a tutti grazie a tutti